Ciao a tutti, cogliendo occasione della Santa Pasqua, il filo di zucchero vi augura ogni bene e vi invita ad accompagnare la vostra festa con i nostri prodotti. Vi aspettiamo nel nostro Atelier del Dolce, che si trova in Piazza Galileo Galilei, Rione Cervetto, Vercelli. Con l'occasione vi auguriamo Buona Pasqua!